È la lente del cuore, secondo il Papa, nel senso che ci fa vedere la realtà come davvero nelle sue dimensioni. Ecco cos'è la compassione predica oggi Francesco da Santa Marta. Non solo aggiunge un sentimento di pena, ma un coinvolgersi, un giocarsi la vita nei problemi degli altri. Come Gesù nel Vangelo di oggi, che preso da compassione restituisce vivo alla vedova di Nain il suo unico figlio. E qui se la compassione è il linguaggio di Dio, tante volte il linguaggio umano è l'indifferenza, farsi carico fino a qui. Come in una foto che Francesco ha fatto affiggere di proposito nella sede della sua elemosineria, un elegante signora che uscendo da un ristorante si gira per non vedere una mendicante e allora, concluda il Papa. Possiamo fare un esame di coscienza. Io abitualmente guardo da un'altra parte o lascio che lo Spirito Santo mi porte sulla strada della compassione, che è una virtù di Dio. Grazie. Grazie.